In un incidente sull'autostrada A1 ha perso la vita un autotrasportatore di fiume di Nisi, comune della provincia di Messina. La vittima è Natale, Parisi, 64 anni, travolto e ucciso da un'auto in transit dopo essere sceso dal mezzo per effettuare le operazioni di cambio conducente con il collega. È morto sul colpo. Altra notte di violenza, la discoteca della vecchia Dogana al porto di Catania. Poco dopo mezzanotte è scoppiata una rissa all'interno del locale. Un gruppo di ragazzi ha cominciato ad aggredire alcuni addetti al bancone del bar perché pare pretendessero cocktail gratis. Ci sono stati diversi feriti tra cui un barista. Ha raccontato di aver chiamato l'ex fidanzato dopo essere stata violentata da un componente dell'equipaggio della nave che da Cagliari la stava portando a Palermo e di avere ripetuto la storia riferita all'ex agli addetti della reception della nave Europa Palace della compagnia Grimaldi che ha così bloccato al porto il traghetto. Ma la versione non convince gli investigatori, la trentenne non presenta nemmeno segni di violenza, pare fosse sotto effetto di stupefacenti. Sono dieci tra siciliane e siciliani gli eletti quali componenti della direzione nazionale del partito democratico nell'ambito dell'assemblea nazionale di Roma, oltre al segretario regionale Anthony Barbagallo, membro di diritto eletti anche Marica Cierone di Marco, Peppe Provenzano, Valentina Chinnici, Sergio Lima, Teresa Piccione, Antonio Rubino, Giovanna Iacono, Peppe Di Cristina, Stefania Marino ed Erasmo Palazzotto.